Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono T e oggi siamo in un vlog Attenzione ragazzi, è tornato un vlog Un vlog Un video ragazzi Allora, siamo qui per quale motivo? Ci sono tanti motivi in realtà Allora, prima di tutto fa un caldo incredibile ragazzi Immagino che anche voi lo sappiate Per cui è molto difficile per me registrare ragazzi in questi giorni Ma ovviamente ho registrato comunque Non è vero, non ho registrato niente Quindi Noi siamo sempre qua ai playbay a fare le partitozze tattiche su Gmod Per cui magari qualche volta di nascosto mi metto a registrare qualcosa Viene fuori ragazzi Vi devo avvisare sempre dei video Riguardando i video vi avviserò che Il David è partito ragazzi Tornerà la prossima settimana Quindi rimandiamo del Joy of Creation alla settimana prossima Quindi il finale insomma Non uscirà questa settimana Ma la settimana dopo Inoltre ragazzi Tra il 13 e il 15 partirò nuovamente Per cui torneranno Gab e Wack a fare video Per una settimana sempre Questo è ragazzi Le teorie adesso incominceranno a riuscire Ho visto che The Game Theory sta fatto un due robe Io e Crazy ci abbiamo parlato un po' Non so Non abbiamo ancora Creato proprio una teoria vera e propria L'abbiamo smentita per adesso E vabbè Non avendo letto ragazzi il libro The Twisted Ones Non posso fare troppi commenti Però sicuramente i Twisted sono dei personaggi che non esistono realmente Un po' come i Nightmare Quindi buono Quindi ragazzi Questo video di oggi era questo Insomma vi volevo avvisare che il David non c'è E io partirò Tra il 13 e il 15 E niente Adesso ragazzi aspettiamo la terza stagione di Rick e Morty Che uscirà Dovrebbe essere già uscita in realtà Però è uscito in realtà Realmente il secondo episodio E adesso andrò ragazzi sul canale di un mio amico Per invaderlo Perché mi ha chiesto di fare un vlog Per avvisare mentre non c'è Quindi invadiamo un attimo il suo canale E noi ci rivedremo sicuramente nel Prossimo video